Rossella Ratto, quest'anno passata dalla team ITEC Product UCK, lanciata dal grande piazzamento al Mondiale di Valkenburg lo scorso anno, in Coppa del Mondo a Cittilio, ma anche verso una stagione dove cosa vorresti fare di bello? Beh, le cose belle ce ne sono tante da farti. Innanzitutto cercherò comunque di crescere e di fare delle ottime esperienze, per cui e già domani cercherò di dare tutto sia per la squadra che comunque per ottenere un buon risultato e poi di sicuro i mondiali sono un buon obiettivo. Come ti trovi nella nuova squadra dopo la prima esperienza? Quest'anno entri in un team importante, come ti stai trovando? Devo dire molto bene, per me è tutto nuovo, correre con delle ragazze straniere è una per l'esperienza, devo comunque ringraziare la squadra perché è molto disponibile, siamo aperti al dialogo, quindi un'atmosfera molto accogliente. Facciamo un gioco per chiudere, preferisci un campionato italiano vinto in terra varesina peraltro, una bella maglia tricolone, una bella tappa al Giro d'Italia magari facendo classifica o un altro piazzamento ai mondiali ancora migliore di quello dell'anno scorso? Caspita, è un gioco molto interessante, forse direi una tappa al Giro d'Italia con classifica.